allora in ambito invece noise americano anni 80 praticamente coevo a quello dei sony cute degli swans uscì un altro pazzo si chiamava joe spencer che si inventò questo gruppo totalmente folle pussy galore che non vi traduco cosa vuol dire in italiano perché è abbastanza oscena mi censurebbero pure e questo è right now il primo album questo praticamente fu il primo disco noise classico in assoluto mai uscito che era praticamente non figlio degli swans più vicino ai sony cute però praticamente lui era una specie di appassionare un grande appassionato di rolling stones rolling stones e di robert johnson uni le due cose però l'unì anche un po con anche gli esser zenden o baudone cioè nel senso fece un mix strano tra appunto quel rock blues e musica industriale un disco fatto poi con bob bert la batteria che usava mentre una batteria fatta da gg metallici completamente unica un disco praticamente sconvolgente per l'anno in cucina e l'ottantasette anche se chiaramente già erano usciti gli esser zenden o bauden i sony cute e gli swans ma questo qui fu insomma una bello schiaffo in faccia io lo recensì questa è una copia promozionale che mi arriva ora il 98 lo recensì su blow up se riuscite a recuperare quella copia di blow up del 98 mi sembra che fosse del settembre ottobre 98 leggetevi la mia recensione la altrimenti pure qua andate su scaruffi e saprete tutto il secondo loro album che uscì praticamente l'anno dopo dai for mother fucker anche qua non vi traduco la traduzione italiano perché è una parolaccia cioè mentre digita chiama telefona m per un figlio di una mignotta praticamente si inizia con un pezzo che è una sequela di bestemmie proprio bestemmie registrate su una grazia telefonica questo disco è leggermente più normalizzato rispetto al precedente ma sempre di una bella feroce di una bella verve poi dopo di che fece un disco abbastanza bruttino in storia della musica rock che sembrava un disco di cover dei rolling stones e quello è meglio anche lasciarlo perdere poi joe spencer fece joe spencer blue explosion e mentre nita egerti con jennifer herrera che era la sua compagna formò i royal trucks e royal trucks già è un'altra storia grazie a tutti